Indigna la maxi-inchiesta della procura di Massacarrara che ha portato alla luce un sistema odioso di lucro, favori e omissioni sulla pelle di indifesi minori e famiglie in difficoltà. Si arricchivano questa l'accusa gestendo numerose strutture per l'accoglienza, assumendo parenti e amici di funzionari pubblici che poi chiudevano un occhio sulle pratiche dei permessi, omettevano controlli e facilitavano l'apertura delle case famiglie. Poi c'era il cibo di scarsa qualità e insufficiente, la pessima condizione igienico-sanitaria con i minori costretti a dormire in giacigli di fortuna vessati con continue minacce e sui quali nessuno vigilava. Nel mirino della procura di Massacarrara la cooperativa sociale Serimper che in questo modo, secondo le accuse, dal 2011 ha aumentato i suoi ricavi di circa 13 volte arrivando a oltre 3 milioni di fatturato e 103 dipendenti. 8 le ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari per i reati di corruzione e di traffico di influenze illecite a seguito dell'indagine denominata accoglienza. Ai domiciliari è finito anche il sindaco di Villa Franca, Filippo Bellesi. Al centro dell'indagine ci sono i vertici della cooperativa, tre amici, fondatori due di Montignoso Alesso Zoppi, l'amica Tamara Pucciarelli e il marito di quest'ultima Enrico Benassi che hanno creato in dieci anni il miracolo della cooperativa finita adesso nel mirino degli inquirenti e che ha fatto scattare anche il caso politico.